Ci capita, purtroppo, in questo processo di crescita, facciamo molto bene, soprattutto, ma giustamente ha detto lei, sono molto soddisfatto per come abbiamo giocato, interpretato la gara. Ci mettiamo sempre del nostro nel fare degli errori sciocchi, singoli. Purtroppo, anche oggi, abbiamo rischiato di buttare dei punti al vento. Sarebbe stato un peccato. No, ma poi, devo dire, anche la squadra sul 3-2 ha avuto una reazione importantissima, perché, quarto dalla fine, prende un gol in quel modo lì, c'è il rischio, insomma, di abbattersi. Invece hanno tirato fuori orgoglio, grinta, determinazione. Ma guarda, fra il primo e il secondo tempo gli ho detto, sull'1-1, ma se si gioca così è un peccato non aver fatto due o tre gol e già averla semi-chiusa la partita. Quindi continuate a giocare, eccetera, eccetera, non facciamo gli errori, perché anche il primo gol è partito dalla nostra ingenuità. E quindi si vede che ragazzi, insomma, da questo punto di vista sono tranquilli, perché ci capiamo al volo, insomma, loro ci hanno creduto, poi la mettono sempre sul piano del gioco, insomma, era normale, per come la vediamo noi, crederci fino al 95esimo, come facciamo sempre. E siamo stati, giustamente, credo, ripagati da questo. Zemai le ha detto, guardiamoci le spalle, la Juve è ormai irraggiungibile. Secondo lei è così oppure... La matematica dice che Zemai non ha tutti i torti, però io intanto dico, in generale, che non si deve guardare niente. Si deve guardare come si è fatto oggi a levare gli errori che abbiamo fatto e continuare a giocare come abbiamo fatto in questa partita e essere più cinici quando creiamo tantissime possibili occasioni e siamo un po' leziosi, un po' leggeri, sia nel farlo, nel concludere in porta, sia a volte nel fare quegli errori difensivi banali che ci hanno costato purtroppo qualche punto. Anche se non ci scordiamo, da un punto di vista del Napoli, abbiamo fatto undici punti più dell'anno scorso, se proprio si può parlare della Juventus, che è la prima della classe, che ha fatto sei punti più dell'anno scorso, altrimenti saremmo stati... Avesse fatto la Juventus il campionato dell'anno scorso, noi saremmo stati a tre punti. Quindi questo dà la dimensione di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo. Vivere di rimpianti non serve, ma appunto aver reagito così in alcune delle altre partite, cioè questo cinismo, perché è arrivato solo adesso? È chiaro che i fattori sono tanti, però forse spiace, no? No, dispiace. Infatti l'andata col Torino stesso, anche se fu una partita un po' diversa, il Torino ci mise più in difficoltà, secondo me, di oggi, per assurdo, fuori casa, in casa nostra. Però alla fine avevamo la partita in mano, Marek, anzi, che sbagliò un paio di volte, 2-0, e poi all'ultimo minuto, a tempi di recupero, nel tempo di recupero, Aronica fece l'errore e ci costrò due punti. Ma partite del genere le abbiamo fatte purtroppo tante, perché? Purtroppo giochiamo molto, creiamo tanto, raccogliamo poco spesso, e ogni tanto ci mettiamo del nostro con qualche ingenuità. A me pensa che possa essere la svolta questa per la fine del campionato? Perché comunque anche fare quello che avete fatto senza Cavani per oltre un'ora è un segnale importante. Sì, no, anche la squadra gioca, poi anche Almero quando l'entra si è integrato. È una crescita di tutti. Anche Lorenzo, Insigne, Compande, che si sono trovati molto bene, come si sono mossi oggi. Insomma, sono contento. La squadra l'ho rivista come piace a me, insomma, e questo è il dato più confortante in vista appunto di questo rascio finale.